Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Tia e oggi insieme al Creepy e a Rochette vi daremo le informazioni per il raduno al Cartoon Mix. Sabato 4 marzo otterremo un raduno alla fiera Cartoon Mix presso Roffiera Milano. Saremo ovviamente presenti tutti e tre e ci potrete trovare sia in giro per la fiera appunto oppure in un luogo apposito. Però di queste cose faccio parlare Creepy che ve le dirà molto più nello specifico. Vi ricordo però che per maggiori informazioni trovate i nostri canali personali, il sito della fiera e il gruppo ufficiale Telegram dove vi invito a entrare nei primi link della descrizione. Saremo presenti alla fiera il giorno 4 marzo per tutta la durata dell'evento. Quest'ultimo si terrà a Roffiera a Milano e sarà raggiungibile tramite l'ingresso est e sud dei padiglioni 16 e 20. E' vero che saremo presenti tutta la fiera ma ragazzi ci sarà un momento della giornata in cui vorremmo fare un mini raduno dalle 14 alle 15 nel punto raggiungibile tramite il percorso che vedete in sovrimpressione in questo momento all'interno del video. Mi raccomando in questo raduno dove ci saremo ovviamente tutti e tre portate qualsiasi cosa che vogliate condividere con noi, fan art, gadget o semplicemente voler scambiare due chiacchiere. Saremo disponibili per un'ora e nel caso abbiate anche qualche problema potremo aspettare qualche minuto in più. Quindi ragazzi spero proprio che questo video vi sia stato utile per raggiungere la fiera. Se avete dei dubbi riguardate il video in quanto mostreremo sempre la mappa ragazzi in questo video quindi sarà molto importante vedere il percorso. E soprattutto il punto in cui faremo il raduno dopo pranzo. Se avete noto e trovo i dubbi vi invito ragazzi a passare veramente fatelo perché è importante dal gruppo 3 che trovate in descrizione in cui potete ricevere informazioni magari esclusive sulla fiera e anche sul raduno che troveremo al Cartoon Mix. Quindi io non ho intanto la dire per questo video vi saluto, ci vediamo alla fiera quindi un saluto alla rocette e bye bye! Infine ragazzi sappiate che per la fiera ci sarò anche il 5 però il 5 vado per i cazzi miei e non mi fermo in giro. Se mi trovate in giro però non sono un sosie sono io tranquilli.